Alta moda, la grande madre della creatività punta al bello e al ben fatto. E Made in Lazio il club della creatività che nasce per sostenere l'estro dei giovani talenti emergenti dell'industria creativa regionale. L'iniziativa è stata promossa al Saloni delle Fontane dell'Eur con la cena annuale di un'industria alla quale hanno preso parte 700 ospiti estrapolati dal mondo dell'economia e della finanza, della moda e del cinema, delle istituzioni e della cultura. Al progetto di un'industria hanno collaborato la sezione tessile, abbigliamento, moda ed accessori presieduta da Stefano Dominella e il Comitato Tecnico Turismo ed Industria Creativa, presieduto dal vicepresidente dell'Associazione Giampaolo Letta. Il club della creatività si pone come obiettivo quello di rendere più fruibile ed accessibile ai giovani talenti il mondo dell'imprenditoria, nelle intenzioni ciò verrà applicato sollecitando le istituzioni a creare bandi diretti anche alle microaziende, consentendo accessi agevolati al credito e facilitando la pianificazione di progetti di internazionalizzazione che passino per la presentazione dei prodotti creativi locali nelle fiere di settore. Il club si propone, inoltre, di collaborare con le istituzioni del territorio per creare ambienti di co-working considerando la copiosa presenza nel Lazio di accademia ed università specializzate nei settori della moda, del design, del cinema e del settore creativo in genere. Troppo spesso i talenti emergenti, usciti dall'accademia e dalle università, sono costretti ad andare all'estero alla ricerca di ambienti più idonei dove fare impresa è il grido di battaglia di Stefano Dominella, presidente della sezione tessile, abbigliamento, moda ed accessori di un'industria, ma conosciuto anche come presidente della Maison Gattinoni. Vogliamo selezionare e sostenere il talento e la giovane creatività made in Lazio, per raccontare e promuovere nel mondo una nuova essenza dell'italianità dove diversità, innovazione e capacità creativa si uniscono all'intelligenza e al sapere dell'industria. Durante la cena di un'industria sono state presentate, attraverso un tableau vivant le creazioni di otto stilisti del Club della Creatività, Italo Marseglia, Tiziano Guardini, Ivan Donev, Gentile Catone, Andrea Lambiasi, Santo Costanzo, Cristian Luongo e Natalia Rinaldi.